buongiorno a tutti come state? credo abbiate trascorso delle bellissime vacanze di natale perché vacanza ovviamente abbiate trascorso delle ore liete in compagnia dei vostri cari familiari e vi invito al concerto per violoncello con tema le musiche più belle del natale in onda il 2 gennaio sulla pagina virtual international concert hall e presto vi condividerò i dettagli per poter partecipare alla diretta e per adesso suono una fantasia di natale composta per un'occasione grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.